Il tema di stretta competenza municipale, chiederò una commissione ad hoc per parlare di questo tema, convocando gli uffici competenti che dovrebbero appunto vigilari su queste dinamiche poco chiare, perché diciamo che sono molto poco chiare, perché la legge e i regolamenti parlano chiaro. Poi una volta analizzato il problema si può capire se appunto fare un atto di indirizzo, poi capiamo bene come muoverci, però prima io farei come atto preliminare questa commissione per parlare con gli uffici, per capire gli uffici se hanno o meno il polso di questa situazione e di questa segnalazione. Grazie.